Vince, voglio delle contrade del Dono delle Sacre Spine 2019, Santa Barbara! Al secondo posto, Tressanti, terzo posto lo rimaniamo, Guardia! Lei A negoziata甜ina, Santa Barbara! V «Cos you're sky, cos you're sky full of stars» Arena Menea a Stracolma per l'ultimo giorno della ventitresima edizione delle Sacre Spine, quello dedicato al Palio. In località Cannelle nove le contrade che si sono sfidate per il gradino più alto del podio. San Liberatore, Cardito, Martiri, Guardia, Vincitrice lo scorso anno, San Rocco, Tressanti, Cerreto, San Giovanni e Santa Barbara ed è stato proprio quest'ultima che alla fine si è giudicata la vittoria. Partiti! Forza! Abbiamo bisogno di voi! Forza! Veloce come il vento, il rappresentante di Santa Barbara, subito! Sui tramboli! Forza! Lui è stato velocissimo, vediamo come sta la cava, è il secondo. Ci stiamo, bene, si corre ai sacchi, velocissimi! Non mi sento, forza! Sono al palo, vediamo la velocità, sembrano piuttosto veloci, forza, forza ragazzi, preso le figie e tornato giù, con una nuova noriete, dovete sfondare il buono, ricordatele. Eccomi, i sacchi e le famose amate odiate giaspole. Hanno preso un buon ritmo, forza! Gli amici di Santa Barbara, terminato! Bravi, bravi ragazzi! Una tre giorni che come sempre ha regalato ad Ariano tanto spettacolo ed emozione, non solo dal punto di vista religioso ma anche culturale. I 300 figuranti che hanno interpretato la corte medievale al seguito del re Carlo I d'Angiò hanno contribuito alla riuscita della rievocazione del famoso dono delle due spine che il sovrano fece alla città del Tricolle. Il pubblico poi, anche ieri sera, è stato la cornice perfetta per un evento su cui per quest'anno cala il sipario ma che si è riconfermato punta di diamante dell'estaterianese. Il grande successo non poteva essere altrimenti, quest'anno festeggiando il 750esimo anniversario, evento importante per la città di Ariano, quindi abbiamo cercato di dare il massimo sia ai cittadini arianesi e sia ai turisti che sono venuti a corsi da tutta Italia. Diciamo, sicuramente il momento più emozionante non è altro che il dono delle sacre spine perché quello è il momento più importante per il popolo arianese. Quest'anno c'è stata la novità per il 750esimo anniversario, abbiamo avuto una bellissima regina Raffaella Modugno e poi un re Sergio Muniz e per l'anno prossimo vedremo un po' cosa ci possiamo inventare.